Un punto che fa morale però c'è tanto da lavorare su questo Cervinara. Sì, oggi avrei voluto tanto fare il risultato pieno perché lo abbiamo cercato, lo volevamo, proprio per dare un cambio soprattutto sotto il profilo di testa motivazionale. Volevamo regalare questa vittoria ai tifosi, non è che sarebbe cambiato chissà che cosa perché il campionato ancora è lungo, però a livello di coraggio per lavorare a settimana con un entusiasmo diverso ci avrebbe aiutato sotto il profilo di credibilità del gruppo. Ciò assolutamente non ci scoraggia perché oggi sotto la volontà, la corsa, la determinazione abbiamo dato tanto, abbiamo cercato di tenere palla, credo che forse l'avremmo tenuta, 70 minuti. Solo che siamo stati poco conclusivi, abbiamo fatto poche palle gol, a parte quella clamorosa che è rimbalzata la palla di Ruocco, che se non rimbalza male è un'ottima ghiotto occasione da gol. Però niente, oggi posso dire, a differenza dell'altra partita, di ripartire dalle cose buone. Noi già da domani che faremo allenamento partiremo dalle cose buone viste oggi e andremo a lavorare su quelli che sono i nostri difetti, le nostre difficoltà, che ne abbiamo, che ne abbiamo. Niente, chiedo soltanto pure ai tifosi, all'ambiente, di pazientare e di dare il giusto tempo per vedere alla fine se saremo carne o pesce. Però sicuramente in una settimana, in 4-5 giorni si vede ben poco. Chiedo solo questo. Poi se non ci riusciremo, pazienza, come funziona nel calcio, se qualcosa non va sicuramente si cambierà. Le cose buone è un Cerminara che costruisce bene palla fino alla tre quarti offensiva. Poi, dove serve il cambio di passo, mancano un po' anche le soluzioni. Cosa negativa è che i tempi sono stretti per lavorare, perché si torna in campo con la Coppa Italia, poi tre giorni si torna in campo con la Scafatese, quindi Buccino e Battipaiesi a breve distanza. Come si interviene per cambiare un po' l'abbrivio di questa situazione? Si interviene che qualsiasi esso sia il giorno e il tempo a disposizione per cercare di lavorare lo dobbiamo sfruttare ai minimi termini. Purtroppo, come dicevi prima, ci sta questa Coppa Italia che ci impedirà di guadagnare un giorno di allenamento. Io, purtroppo, questa squadra l'ho avuta soltanto da 4-5 allenamenti e ho potuto fare l'indispensabile. Ho bisogno di tempo, ho bisogno di tempo per cercare di mentalizzare i ragazzi, quantomeno a portarle alle mie ideologie, alla mia mentalità, quello che piace a me nel rettangolo di gioco. Ho trovato la volontà da parte loro, l'applicazione, questo è positivo. Dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri, cercheremo di lavorare più a livello specifico, lì davanti, di cercare più giocate più rapide, più veloci attaccando la porta. Ma io credo che se i propositi sono questi, quantomeno dell'impegno e volontà, io credo che possiamo solo crescere. Con questo gruppo o serve anche qualche nome al di fuori di questo gruppo, secondo Mr. Messina? Ma io credo che qualsiasi gruppo anche che è costruito a vincere manchi sempre qualcosa, ok? Anche la squadra che in questo momento è costruita per vincere, se andiamo a domandare gli manca sempre qualcosa. Sicuramente se venisse qualche giocatore in qualche reparto specifico che ci porti un po' di qualità, dico così, insomma non ci dispiacerebbe. Ma se dobbiamo continuare così fino a dicembre, perché dobbiamo prendere solo per il gusto di prendere un calciatore, che non ci venga a dare la mano, alla fine non prendiamo nessuno. Questo lascio ampia libertà alla società di decidere, però sono molto sereno, fino al primo dicembre al mercato abbiamo un organico, lavoreremo su questo e cercheremo di dare il massimo. Con Mr. Della Rocca un pariggio che sta bene, però per quello che si è visto nel primo tempo, forse la Virtus può anche recriminare per due punti mancati. Io penso che l'elogio principale per questo grande primo tempo ha fatto i ragazzi, hanno interpretato una partita secondo me eccezionale, soprattutto in fase di non possesso, perché loro giocando a tre portavano sempre superiorità sugli esterni. Ci siamo stretti bene, siamo ripartiti altrettanto bene e devo dire la verità, il primo tempo bene, bene, bene. Il secondo un attimino meno, però penso che questo pareggio vada bene entrambi. Sarà un campionato lungo, 18 squadre, è uno dei temi di inizio stagione, però l'impressione che questa Virtus Avellino che si sta costruendo sia una squadra quadrata in campo, che difficilmente concede qualcosa agli avversari. La Virtus Avellino che sta nascendo è una Virtus Avellino che senza palla, sotto palla, lavora in un modo eccezionale. In settimana io lavoro con un gruppo che mi emoziona, perché lavora con grinta, con voglia, con caparbietà e non molla mai. Penso che in campo si è visto, fino al 94esimo abbiamo corso senza nessun problema. Che cosa manca per il salto di qualità, se c'è possibilità di un salto di qualità a stretto giro? Innanzitutto noi dobbiamo raggiungere il prima possibile la salvezza. Per quanto riguarda il salto di qualità dipende da quello che succede mentalmente ai miei ragazzi. Se noi creiamo entusiasmo e riusciamo a gestirlo, io credo che questa squadra possa fare bene. Se creiamo entusiasmo e non riusciamo a gestirlo, saremo vittima di noi stessi.